Vendere casa non è così facile come sembra. Sono Gennaro Delcore, giornalista e questa è una nuova puntata di Rubino Immobiliare News, il podcast di Rubino Immobiliare che ogni volta affronta tematiche interessanti per coloro che stanno vendendo o comprando casa. Oggi con me c'è il presidente di Rubino Immobiliare, Andrea, benvenuto. Ben trovati. Andrea, la puntata di oggi si intitola Oltre la vendita, supporto e sicurezza. Abbiamo analizzato in tante puntate di questo podcast tanti aspetti della vendita. In questo andiamo oltre, cioè anche una volta che si è venduto l'appartamento, il rapporto con l'agente immobiliare non finisce. Qual è la difficoltà maggiore ad esempio per quanto riguarda la preparazione alla vendita, la preparazione di un immobile alla vendita? Qual è la difficoltà maggiore di chi vende da solo rispetto a chi ha invece una consulente immobiliare? L'attività di un'agenzia immobiliare è stato uno dei miei primi pensieri sin da quando ho fondato la società nel 1983, è quella di assistere le parti, quindi assistere i clienti che vogliono vendere o comprare in ogni fase, quindi in ogni fase sia dall'inizio alla fine, quindi con un supporto concreto, anche consulenziale e diretto. Cioè noi il nostro cliente lo affianchiamo sempre, anche dopo che ha fatto l'acquisto, perché dopo che ha fatto il contratto preliminare, dopo che ha preso quasi tutte le decisioni, è chiaro che noi lo accompagniamo fino alla stipula dell'atto notarile, anche dando consigli su varie situazioni, che poi devo dire il trasloco, quello che può essere le utenze domestiche, le tasse che deve pagare, cioè noi siamo sempre qui presenti, questa è una cosa importante, perché noi oltre a metterci la faccia ci mettiamo tutta la nostra passione e tutta la nostra serietà appunto nel assistere il cliente e quindi dargli tutte quelle che sono le informazioni utili per fare un acquisto, una vendita tranquilla. A proposito di informazioni utili per vendere, penso all'impatto che hanno le piattaforme online oggi in una vendita, voi riuscite a supportare il venditore anche in questi aspetti così diciamo tecnologici? Sì, beh certamente l'attività si è evoluta, quindi occorre coniugare quello che è l'aspetto umano del rapporto, perché nella compravento immobiliare ci sarà sempre, o meglio, è un'attività che non potrà mai essere sostituita da una macchina o neanche dalla intelligenza artificiale che noi chiamiamo, però diciamo che tutti questi strumenti possono essere utili nel tutto il processo della compravento immobiliare, a noi professionisti che chiaramente dobbiamo usare questa tecnologia, hai parlato dei portali, quindi diciamo dei siti internet dove raccolgono tutti centinaia di migliaia, sono milioni di immobili in vendita, ecco questi sono strumenti che permettono al cliente di visionare, di vedere l'immobile e vederli diversi, nell'acqua di anche un'ora ne può vedere diversi, quindi si può fare anche una bella cultura di quel che sono i prezzi immobiliari, però può scegliere bene, ecco noi in questo caso oltre chiaramente a usare tutti i canali pubblicitari, tutti i portali più importanti che può essere immobiliare.it, idealista, casa.it, tutti quelli che sono i portali maggiori che raccolgono più immobili possibili, noi con questi portali usiamo anche uno strumento di alta tecnologia che è uno strumento che non è una macchina fotografica e neanche una cinepresa, è una cosa insieme, però ad alta definizione che permette di vedere l'immobile a 360 gradi anche di misurare l'immobile, cioè il cliente comodamente a casa sua vede l'immobile, vede la stanza e con un piccolo click può misurarsi quelle che sono le misure, dentro il divano entra il suo mobilio se dopo ha da inserire nella casa nuova. A questo punto mi viene una domanda per chiudere questa nostra chiacchierata, si sta diffondendo sempre più l'home staging, cioè la preparazione della casa alla vendita, vengono addirittura insomma individuati dei professionisti che ci aiutino ad arredare la casa quando sta per essere visitata da dei venditori, è così importante anche la presentazione della casa? Allora l'home staging è un'attività che proviene dall'America, dagli Stati Uniti, allora vi ho sempre detto che l'Italia e gli Stati Uniti sono due realtà diverse, due società diverse, infatti lì in America, a parte che ci sono degli scampi molto più continui, anche perché diciamo in America il lavoro si trova molto più facilmente di qua in Italia, ora non andiamo a esaminare, è un'economia diversa, però l'America non ha problemi di spostarsi da una città all'altra o d'altro, quindi chiaramente ci sono scopi, quindi chiaramente c'è anche una grossa attività di cambio casa, quindi c'è una grossa attività di cambio casa e ha detto è una realtà diversa, lì per esempio le case o le ville le vendono già con la cucina redata, qui in Italia poche, però ecco, ritorno dall'home staging, che cos'è? la preparazione di una casa per renderla più vendibile, no? Allora in America cosa possono, che cosa fanno? Fanno addirittura una ristrutturazione degli immobili o comunque una pitturazione ex novo, mettono nuovi immobili, quindi la fanno vedere in maniera diversa, è un servizio che costa, perché chiaramente oggi fare un'attività di home staging su una casa libera è possibile, però, perché chiaramente, però costa 5-6 mila euro questa attività, quindi è una cosa che si può fare, poi bisogna incontrare il gusto e bisogna trovare il gusto del cliente, dell'acquirente, cioè non è una cosa, cioè ecco perché, se metto la cucina che dico io poi deve piacere proprio quella, beh è chiaro che ho detto ci sono queste situazioni e quindi ecco perché, perché in America certamente quando si tratta di ville che costano 2 milioni di euro, allora il proprietario, perché doveva un'attività che può fare proprietario, può fare l'agenzia, però dopo deve fare le sue considerazioni, però chiaramente una villa in America si vende a 2 milioni di dollari, è chiaro che il proprietario può dire, beh io mi metto la cucina nuova perché le case in America si vendono tutte con le cucine, infatti si parla della cucina americana famosa, quindi che non è la cucina italiana, però la cucina americana e quindi viene venduto con la cucina ma anche con i mobili, però è un discorso una società diverso, qui in Italia non è che si può fare, però bisogna vedere prima di tutto se la casa è libera e se invece come maggior parte delle case sono già ancora abitate dai proprietari, non è facile andare a dire alla persona non più giovane che ha i suoi mobili ed altro, ora rifacciamo, facciamo la pittorazione, diciamo si va a sconvolgere un po' la vita, invece quello che va in Italia che noi facciamo già da diversi anni è l'home stage virtuale, cioè noi riprendiamo la planimetria o meglio prendiamo la fotografia di una camera o di tutto l'appartamento e ecco con un sistema facciamo vedere come può essere trasformata la casa, come può essere anche divisa, però diciamo lo facciamo ed è lo stesso ambiente con un arredamento diverso perché molte volte anche l'arredamento che può essere antico o antiquato, chiaramente può influire su quello che è la vista dell'immobile. Grazie Andrea per quest'altro appuntamento e alla prossima.